Ben ritrovati in una nuova puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Io sono Marco Bignozzi, insieme a me Barbara Banco. Bentrovata Barbara. Bentrovato Marco, un saluto a tutti. La favola di questa sera inizia così. C'era una volta la festa del Natale del 2012. Festa del Natale, dici? Che cosa si festeggia a Natale? Si festeggia la nascita, si festeggia l'albero, che è una forma molto particolare, è un triangolo, non trovi? Somiglia proprio alla forma di quello che viene definito Trust. E soprattutto si mette sotto l'albero i doni, si festeggia, si brinda. Sapete cos'è quello? È un consenso. È il consenso a quella festa. Ma dovete sapere che quella non è una vera e propria festa. È un giorno nel mercato commerciale, un giorno molto particolare. È il giorno dove finisce l'anno fiscale e dove si rinnovano tutti i contratti, compresi i nostri asset. Quindi il 25 dicembre, mentre noi alziamo il calice in aria, sappiate che stiamo dando consenso energetico all'atto di schiavitù sul nostro nome legale. Bene, questa è stata la data che Eteran, Tucci, Jarraf e gli altri due Trustidio, PPT 1776, hanno scelto per fermare la schiavitù. Proprio quella data lì. Infatti il 25 dicembre parte un comunicato a tutti i 194 governi in parvenza di stati che in quel momento erano iscritti alla Security Exchange Commission e a tutte le banche, tutto il World Bank, per confutare, questa è la parola, che vuol dire portare le prove a favore, confutare tutto quello che c'era scritto nella denuncia, quindi nel Final Paradigm Report. Bene, sappiate che è stato dato 28 giorni per la confutazione, esattamente un ciclo lunare, ma nessuno ha mai risposto. Perché? Perché le prove sono sempre state lì, dentro quel contenitore dove la denuncia è stata depositata. Quindi il 25 dicembre, come scelta dalla data, è una sorta quasi di controincantesimo all'atto di schiavitù che ogni anno veniva rinnovato. Beh, da che so io, caro Marco, non è sicuramente la data di nascita del Cristo, anzi di Gesù, ma quella data lì è spostata di qualche mese avanti. Vuoi saperla? Storicamente sì, sappiamo. Però dimmi la data, che anche quella ha una sua valenza. Eh sì, è nato il 14 di febbraio, la festa degli innamorati. Che strano, vero? Ci si festeggia l'innamorato, come era la storia alla che si dice, la festa di ogni innamorato che pensa di essere innamorato, invece è solo... Sai, il sistema ha una strana, stranissima senso dell'umorismo. Strano. Comunque, tornerei a parlare di cosa è successo poi il 23 gennaio 2013, quando sono scaduti i 28 giorni, dove nessuno ha confutato e quindi è sancita, perché nella Comun Law è un affidavit inconfutato, è legge. Che significa? Significa che se tu non mi rispondi alla mia accuse, quelle accuse diventano verità. E quindi c'è un rimedio. Questo rimedio, già detto, scritto e già depositato dentro la Security Exchange Commission, è la chiusura di tutti i governi in parvenza di Stato e di tutte le banche. Quindi dal 2013, 23 gennaio, esattamente, tutte le banche e tutti i governi sono foreclosed, preclusi, che vuol dire chiusi all'origine, all'atto di istituzione di quelle società private. La Italy Republic of, che prende questo nome, sappiate, nel 2002, e poi vi racconto perché nel 2002, è annullata dal 34, quindi a oggi, oltre ad essere annullata, il 18 marzo 2013, la procedura OPPT si chiude, dopo il deposito, ripetiamolo, di 80 documenti di preclusione mondiale, si chiude con il pignoramento globale. Oggi tutti i beni della Terra, tutti sono tornati a Eternal Essence. Chi è Eternal Essence? Siamo tutti noi, tutti quelli che scoprono questa frode e reclamano il diritto. Sappiate che c'è un popolo intero che lo ha già fatto. Naturalmente, si sono guardati bene da divulgare questa informazione. Barbara, anche oggi siamo riusciti a far emergere nuove verità. Io ti ringrazio, do appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata di Non sono favore di Barbara Banco. Ciao Barbara. A presto Marco. Per approfondire questi argomenti, entrare nel dettaglio e scoprire tutte le realtà giuridiche, potrete visitare il sito noieiosono.com noieiosono.com